buongiorno e benvenuti al nostro video giornale cresime in diocesi un bel gruppo di ragazzi delle parrocchie madonna del rosario e san carlo a torchia gina e a santa pollinare a capodacqua hanno ricevuto il sacramento della confermazione tanta emozione a pervasi giovani che sono stati accompagnati dai rispettivi padrini e madrine domenica 16 giugno alle ore 11 e 30 le cresime saranno celebrate a santa maria degli angeli riapertura della chiesa di gualdo tadino dopo oltre un anno e mezzo è stata riaperta al culto la chiesa di santa maria di leantro a palazzo mancinelli ad aprire il suo portale il padre vescovo il quale ha ricordato l'importanza che un edificio di culto riveste per la sua comunità tanto più quando si tratta di un culto molto antico come quello della vergine di leantro dopo due anni riapre questa chiesa dedicata alla madonna del fiume e in toro colè che sorge sopra il fiume e diventa un momento di festa per tutta questa comunità non è una grande comunità ma è molto molto legata e si sono spesi tutti quanti per rimettere veramente al gusto e al gustare per pregare per condividere in questa comunità e difficoltà sono tante ma insieme le abbiamo affrontate con tanta serenità e oggi possiamo veramente dire che siamo tornati a casa la lunga notte delle chiese la mistica luce della musica al santuario della spogliazione di assisi per francesco e carlo è il titolo delle iniziative organizzate dalla diocesi che ha aderito alla notte bianca dei luoghi di culto la serata è stata aperta dal concerto di carlo forlivesi e andreina zatti con la recita inedita di una poesia in latino musicata in onore del venerabile carlo cutis sono seguiti l'intervento di eraldo marini sul tema un ragazzo che si è lasciato illuminare da dio e il racconto della progettazione della tomba del giovane collocata nella navata sinistra della chiesa dopo il concerto di marco mammoli e michele rosati la serata si è conclusa con la preghiera della luce musei archivi e biblioteche a porte aperte sono stati molti i visitatori che nel fine settimana hanno potuto ammirare gli oltre 15 mila libri della biblioteca vescovile e il campanile della cattedrale di san rufino con le sue architetture medievali e la suggestiva visione notturna della città la visita alla biblioteca con cenni sulla sua istituzione storia e natura ha permesso di conoscere i volumi più preziosi dal 500 ai giorni nostri e scoprire le curiosità tra gli scaffali assemblea diocesana la diocesi si appresta a vivere un intenso momento ecclesiale con l'annuale assemblea diocesana che si terrà venerdì 14 dalle ore 16 e sabato 15 giugno dalle ore 9 e 15 alla domus pacis di santa maria degli angeli e sarà incentrata sul tema i sacramentali saranno due giorni molto significativi anche in relazione all'ultimo anno del triennio dedicato alla liturgia ritiro dei candidati ai ministeri e veglia di pentecoste i corsi di preparazione ai ministeri tenuti da don antonio borgo e da suor rosa magatz direttore e vice direttore dell'ufficio liturgico si sono conclusi giovedì 6 giugno con il ritiro spirituale al santuario della spogliazione dopo la meditazione sono seguite la celebrazione eucaristica e l'adorazione ai 44 candidati accoliti ministri straordinari della comunione lettori e collaboratori della parola il padre vescovo ha conferito i ministeri durante la veglia di pentecoste che si è tenuta nella cattedrale di san rufino chiusura della visita pastorale del vicariato di assisi dobbiamo camminare insieme lo ha detto il nostro vescovo domenico nel corso della serata di chiusura della visita pastorale del vicariato di assisi che si è tenuta alla domus letizie il vescovo per l'occasione ha consegnato e letto alla comunità la lettera di riscontro e indirizzo nella quale sottolinea l'importanza di condividere un orizzonte progettuale unitario pellegrini anglicani al santuario della spogliazione un gruppo di 13 pellegrini appartenenti al terzo ordine francescano anglicano proveniente dal gloucestershire inghilterra sud occidentale in italia per una settimana sui passi di san francesco da laverna a greccio e fonte colombo passando per assisi hanno visitato il santuario della spogliazione museo della memoria assisi 1943-1944 il gruppo era guidato dal reverendo padre tony ross che ha prestato servizio presso la cappellania assisana nel febbraio 2018 all'iniziativa si sono uniti anche il reverendo brian kerry e sua moglie reverenda rosemary della nuova zelanda e cappellani della congregazione anglicana per questo mese grest alcuni appuntamenti dei grest organizzati in diocesi oratorio anspi sacra famiglia a costano dal 10 al 28 giugno tema l'isola che c'è parteciperanno circa 60 tra bambini delle elementari e ragazzi della prima media guidati da circa 12 animatori oratorio il ponte a passaggio di bettona dal 17 al 28 giugno parrocchie di petrignano e palazzo dal 17 giugno al 5 luglio tema l'isola che c'è parteciperanno circa 120 bambini dai 6 ai 12 anni guidati da circa 35 40 animatori vi ringraziamo per l'attenzione e arrivederci alla prossima edizione grazie a tutti